Nel corso di attività di controllo economico del territorio, i finanzieri della compagnia di riposto hanno individuato lungo la strada provinciale, nel comune di Randazzo, un'estesa area estrattiva insistente sulla colata lavica del 1981. Le attività ispettive hanno consentito di rilevare che l'area presentava una voragine profonda a circa 15 metri all'interno, della quale, al momento del sopralluogo, erano presenti massi in basalto, pronti per essere utilizzati nel settore edilizio. Le successive indagini, svolte anche grazie all'ausilio tecnico del personale del distretto minerario di Catania, hanno consentito di scoprire che l'area è stata interessata tra il mese di marzo 2019 e il mese di settembre 2021 da un'attività di estrazione abusiva da parte di una società, con sede a Randazzo e operante nel settore estrattivo, che ha consentito di prelevare illecitamente circa 170.000 metri cubi di materiale lavico. Sono identificati due responsabili, il rappresentante legale di fatto della società, segnalati all'autorità giudiziaria per violazione della normativa in materia di lavori effettuati in cave e miniere. L'area di 17.000 metri quadri è stata sottoposta a sequestro convalidato dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. Grazie a tutti.